Per me è una gioia molto grande, sono molto felice di essere qua, con tanti ricordi anche delle altre volte che ero qua. Io volevo sempre tornare, però alle volte le cose diventavano più difficili, poi in Brasile, quando ero qui a Roma era più facile, era più vicino. Però io una volta ritorno e questa volta è capitato che ci sarà adesso a Roma una grande riunione in vista del sinodo per l'Amazonia, che ci sarà un sinodo per l'Amazonia in Brasile. Qui a Roma però per l'Amazonia, sì. Io dico, ma devo vedere, mi letto, come no? Io ritrovo tutti quanti qui con tanta gioia e anche vorrei che Giole benedica tutti quanti in questo oasi, qui soprattutto in questo momento. E dico ricordando anche la Domenica della Misericordia, perché qui si fa misericordia, qui si impara a fare misericordia, a essere misericordioso. Il Papa sempre dice che è la misericordia che salva, non sono tante altre cose, ma la misericordia salva. E perciò senza altro che questa casa qui, questa opera, questo oasi, è una benedizione di Dio, prima di tutto per quelli che sono qui la comunità, però anche per tutta la regione, vuoi che tanto sostegno a questa casa. Lui vorrebbe essere qua, perché dove c'è gente che si riunisce per la misericordia, dove c'è gente che soffre, gente che ha bisogno di essere incoraggiata, lui vorrebbe essere sempre dappertutto un po'. E perciò noi dobbiamo anche fare lo stesso, perché lui ci vuole dare anche questa spinta. Io lo conosco senza altro soprattutto su questo aspetto, lui è molto vicino alla gente, è molto misericordioso. Lo fa per nessun altro motivo, solamente a causa della persona che è lì, lui lo fa. E allora uno impara con lui anche questa questione della misericordia.